Eccoci qui, eccoci qui ragazzuoli, siamo effettivamente sul primo video del canale, sul primo gameplay del canale perché come ho detto in live, purtroppo mi si è corrotto tutto quanto di baionetta tra save e altre robe quindi ho dovuto ricominciarlo da capo perché non avevo dei backup e mi son detto perché no, perché no facciamo il primo gameplay sul canale in cui mostriamo un po' di, tra virgolettuni, gameplay di qualità anche perché certe volte farò delle boiate che non avete idea ma perché no facciamo un mega gameplay dall'inizio del gioco fino a dove siamo arrivati e vediamo come va, vediamo come va Per il resto ragazzuoli, se vi interessa, se è qualcuno al di fuori della nostra community noi ogni venerdì portiamo baionetta su Twitch ci vediamo in live, spero che il video vi piaccia, è puro gameplay quindi non ci dovrebbero essere troppi cazzi e noi ci vediamo in live ogni sera alle 10 circa, da lunedì al venerdì ciao a tutti gorgiotti ciao a tutti 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 a tutti